benvenuti questo nuovo video un video di una sessione andiamo a vedere subito al volo questa sessione eccoci qua via ah si rosa chiede il contatto vabbè tanto lo sentiamo adesso va bene passiamo un'altra sessione velocemente intanto grazie a chi ha risposto chi risponderà passiamo rosa cerca il suo marito antonio non mi ha lasciato il cognome ecco questo è una cosa che c'è la compilazione di un post in un qualcosa se io vi chiedo in un video vi chiedo nome cognome e la domanda che dovete porre al vostro caro e insomma poi le cose sono incomplete diventa tutto più difficile non per sia per me ma anche per le guide ma le guide poi sono un livello superiore del mio insomma comunque il marito viene quindi occhio la prossima volta se chi vuole fare un contatto eccetera eccetera bisogna essere precisi ecco e quindi antonio ci sei mi rispondono faccia da gulli mannaggia un attimo che sto sto telefono mamma mia che cosa impressionante la gente non sa leggere non sa leggere i post non sa leggere niente comunque dice faccia da gullit molto probabilmente ha la faccia che assomiglia chi è gullit gullit era un calciatore degli anni 90 penso non mi ricordo non è che mi interessa molto di calcio comunque che giocava nel milan che c'era gullit van basten rai card altri e altri giocatori insomma ecco e niente dice che c'è la faccia da gullit non vado a vedere come a che faccia a gullit non è che mi interessa molto comunque dice faccia da gullit cioè va bene allora una guida dice faccia da gullit dice va bene però mi risponde qui sono qui e infatti l'ho sentito anche in diretta mi dicono adamo adamo dice poi poi forse vuole del tempo per modulare e cercare di parlare comunque più avanti sentiremo un po determinate parole situazioni e cose insomma allora antonio ho capito che sei qui e vuoi parlare allora innanzitutto vuoi mandare un messaggio rosa allora dice paradiso grazie mammo grazie mammo allora io sono mammo allora molte persone mi chiamano mucci mi chiamano adamo mi chiamano damo e non so come mai mi chiama mammo che mammo mi chiamava così mia sorella quando ero piccolo e da tantissimo tempo che mia sorella mi chiama ancora mammo però è da tantissimo tempo che perché solo mia sorella mi chiamavamo e strano che lui mi chiamavamo e dice a posto tutto a posto tutto bene e qua dice velocemente rosa e lì rosa e lì c'è rosa ti vede tuo marito ti vede dice rosa lì io vedo rosa e dice due parole cioè faccio due parole non voglio dire molto non voglio dire tanto proprio due parole dico e qua dice studialo non so cosa intende se è inerente alla tua vita rosa rosa ti chiami rosa si rosa studialo non so che cosa vuol dire e dice parlo sì ah ecco no è che sto sentendo varie sessioni e dice studialo come modulare e modificare i fonemi offerti ecco insomma ecco alcuni avevo già detto che alcuni sanno già modulare bene altri fanno fatica altri non riscono proprio a modulare perché non hanno mai parlato in metafonia ecco è questo che voleva dire studio ah qua dice io mi vesto verde io mi vesto di verde non so magari era un suo colore preferito o è stato vestito di verde non lo so e qui dice elevan cioè elevo mi elevo e io sono pace cioè io mi sono elevato e sono diventato pace sei nella luce antonio beh insomma mi ha già risposto ecco e dice io gli faccio la domanda chiara oh sei nella luce antonio e so e dice solo e sì e sì e l'ho sentito in diretta e quando sento le cose in diretta quando dico se sono nella luce mi dicono sì e qui dice le chiese odio è una cosa molto particolare e strana nel senso allora c'è da aprire un argomento su questa cosa è che molti credono che la religione e la spiritualità vanno pari passo e invece in qualche maniera non è così perché vediamo antonio che comunque sta bene nella luce poi dopo ci dice qualcos'altro dicendo che odia le chiese molto probabilmente in vita era così nel senso non gli piacevano le chiese perché comunque non vuol dire che non gli piace la religione è un'altra facendo un altro conto di cose molta gente non magari non va in chiesa o non gli piace la chiesa magari c'è un parlo con prede che non gli sta simpatico eccetera eccetera o magari l'odore dell'incenso come mia sorella non va in chiesa perché è intollerante all'incenso quando e quando incomincia a fare l'incenso non riesce a respirare eccetera eccetera e quindi anche mia sorella tra virgolette dice odia le chiese capito però è religiosa non è che e spiritualità e religione vanno tra virgolette d'accordo ma non vanno pari passo ecco insomma ci sono persone che comunque sono andate nell'altra dimensione erano ate e sono arrivate comunque nella luce virgolette paradiso e non credevano a niente insomma ecco noi scendiamo facciamo un percorso chi vuole scegliere di essere credente nei Vangeli nella Bibbia in Gesù in Imma i Santi eccetera eccetera ben venga c'è gente che comunque non ci crede ma comunque andrà andrà lo stesso nella luce paradiso insomma ecco e questo odio le chiese molto probabilmente è una parola una frase per far capire che è proprio lui ecco insomma e qua mi dice Antonio è molto cioè dico percepisco che è molto è molto bravo nel senso che anche secondo me in vita è stato così in questo momento è stato chiamato per chiedere come sta eccetera eccetera lui dice altro nome qui nel buio cioè c'è un'altra anima che lui ha visto e purtroppo non dice il nome che dice che è nel buio è in difficoltà e qui c'è la fratellanza si capisce la fratellanza tra chi è su e sta bene e chi è giù e non sta bene però quello che è su che vede quello lì che è giù gli dispiace e qua dice guarda mi fa capire guarda che c'è un altro nome c'è un'altra persona c'è un'altra anima che è comunque in difficoltà e qua dice un'altra anima che c'è e dice cosa hai detto parlo inglese perché i fonemi sono sono metà inglesi metà lingua spagnola e non c'è l'italiano e allora loro cercano di modificare e modulare perché comunque alcune parole assomigliano un po' all'inglese e allora loro dicono parlo inglese cioè modulando questi fonemi eccetera eccetera sto parlando inglese o sto parlando italiano è una loro prepensità che gli è venuta insomma caspita ho sentito subito e sì anche questo che io l'ho sentito in diretta insomma allora Antonio ascolta ti faccio una domanda un po' particolare se vuoi rispondere se ti fanno rispondere se hai permesso di rispondere e sentite bene che io cioè che cosa dico perché molte volte quando dicono determinate cose c'è sempre c'è sempre il mio spirito guida e poi ci sono ci sono i ministri le guide un po' più elevate e hanno la possibilità di far dire e non dire una determinata cosa a una determinata anima perché? perché ci sono cose che possono dire e cose che non possono dire questo l'ho imparato in questi in questi anni insomma e quindi gli faccio una domanda e so che cosa potrebbe dire e che cosa non potrebbe dire insomma io hai perdonato i medici che hanno accorciato i giorni terreni qui su questa dimensione sulla terra questa è una domanda impegnativa è impegnativa molto probabilmente per diversi aspetti che comunque non sto qua a elencare per lui che rivive quel determinato trauma perché comunque chi ha avuto magari un incidente o qualcosa altro e ha un trauma psicologico bene o male è la stessa cosa far rivivere ha un'anima il momento del suo trapasso gli ultimi istanti tra virgolette della sua vita non è bello difatti io ho posto la domanda e ho messo le mani avanti in base a determinate cose insomma ecco però comunque sentiamo comunque la risposta che ci dice allora qui ci dice va giù poi cioè chi ha comunque commesso questa questa grave mancanza di aiuto medico purtroppo prenderà stavo dicendo prenderà dei bei schiaffoni ma insomma prenderà carico dei suoi sbagli i suoi problemi che ha commesso in vita ecco insomma però la domanda che gli faccio se ha perdonato determinate persone lui mi dice va giù poi io sono sicuro che andrà giù perché comunque non può salire nella luce o nel paradiso direttamente perché perché ha causato la sparizione ha causato scusate la sparizione e l'interrompere della vita di di Antoni insomma ecco però ci dice si ci dice che ha perdonato e mi dice pure il mese a maggio non so se lui è partito in un'altra dimensione a maggio o la ha perdonata a maggio e quindi qua vediamo anche le tempistiche nel senso loro sanno che mese è che anno è eccetera eccetera e qua dice chi si rivede chi si rivede non so chi ha visto lui ma vede una persona conosciuta non so se è una persona conosciuta in vita o conosciuta dall'altra parte insomma e dice parla bene mi raccomando e qua dice bene cieco basito sinceramente queste interazioni non so che cosa stanno a indicare però è stato basito dal bene che ha fatto qualcuno nei confronti suoi non so ok ti do altri 30 secondi anche a te caro Antonio mando un messaggio a Rosa quello che vuoi dirgli hai questi 30-40 secondi e poi ci salutiamo purtroppo adesso sentite che cosa mi dice dice che lui esce prende la moto e si fa un giretto sì è così nel senso ci sono le moto ci sono le automobili e magari a lui gli piaceva andare in moto lui esce e si fa i giretti in moto però ci dice una cosa importante sul suo cammino per andare nella luce alghe sono guarito allora alghe è stato in un basso astrale paludoso eccetera eccetera però dice sono guarito il mio corpo eterico è guarito sono diventato mi sono evoluto e sono diventato luce dice ero lì fine è finito il mio percorso e adesso ho iniziato un altro percorso che è nella luce allora parlano dietro parlano dietro qualcuno parla dietro non so se è inerente alla sua scomparso o a te rosa parlano dietro non so chi sia se sono parenti amici eccetera eccetera fa un nome Elena non so chi sia Elena tua zia o sua zia non lo so perché dice parlare zia non so chi sia Elena se è di qua o è di là comunque dice parlare zia non so se dice che Elena sta parlando adesso o tu devi parlare a questa Elena zia che è tua zia non lo so vedi tu poi e gli ho detto cioè l'ha detto e dice una cosa molto molto bella e si sente si sente proprio basso si sentirà a fine video perché quando faccio la spiegazione e l'audio del video è molto basso in confronto al microfono non riesco a sistemare questa cosa però se voi andate avanti alla fine della mia spiegazione c'è tutta questa sessione che stiamo vedendo con un audio molto più alto e amplificato quindi qua si sente ah ma e qua dice qui Greta non so chi sia Greta io conoscevo una Greta però non di persona è una Greta era già venuta anni fa in metafonia eccetera eccetera l'avevo già spiegato in un video comunque se è tuo parente Greta buono se non è tuo parente Greta so io chi è grazie Antonio qua dice amuleto vedo là non so se tu Rosa hai un amuleto una collana un qualcosa lui lo vede insomma potevo dice non so se è inerente a questo amuleto che lui dice poteva non lo so poi mi dice damo è che mi chiamano damo e l'ho sentito in diretta in diretta che mi chiamava damo e qua dice sono fani non so chi è questa fani e dice che ci sono dei movimenti beh molto probabilmente penso che dicono che ci sono movimenti in casa mia perché comunque quella mattina ho registrato per quattro persone bene o male e c'erano diverse anime difatti in una prossima sessione un'anima mi fa una battuta che dice qua c'è poca gente ok grazie Antonio scusa niente bo dai siamo arrivati alla fine andiamo sul mio faccione eccolo qua lo riuscivo a trovare il mio faccione niente comunque Antonio sta bene nella luce dice a Rosa di di amare di amare di ama alla fine siamo nati per amare non solo noi stessi ma anche gli altri cioè cerchiamo di farlo niente anche questa è una bella sessione poi arriva a una sessione un po' più diverse e sto capendo anche una cosa che quando arriva Olmo Sant'Antonio è la sessione non promette niente di buono difatti in queste sessioni che stiamo uscendo non sentiamo il nome di un ministro ma sentiamo magari il nome del mio spirito guida anzi nell'ultimo video che sono uscito era per Sara forse non mi ricordo alla fine no non era per Sara è per un'altra persona non mi ricordo chi alla fine dice Luca Luca era suo figlio che io avevo contattato il marito invece Luca io avevo detto Luca è il mio spirito guida e invece no Luca era il figlio quindi il papà era insieme al figlio insomma ecco era per dare una spiegazione di uno non uno sbaglio però io ero convinto che era Luca il mio spirito guida non sapendo che la signora aveva anche il figlio oltre al marito di là e si chiamava Luca è un onnimo del mio spirito guida insomma e niente al prossimo video passiamo un'altra sessione velocemente intanto grazie a chi ha risposto chi risponderà passiamo a Rosa cerca il suo marito Antonio non mi ha lasciato il cognome e quindi Antonio ci sei? qui 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 allora Antonio ho capito che sei qui e vuoi parlare allora innanzitutto vuoi mandare un messaggio Rosa grazie grazie mamma si grazie 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 sì grazie 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 si sei nella luce Antonio eh sì e sì Caspita, ho sentito subito il sì. Allora Antonio, ascolta, ti faccio una domanda un po' particolare, se vuoi rispondere, se ti fanno rispondere, se hai permesso di rispondere. Hai perdonato i medici che hanno accorciato i giorni, i terreni qui, su questa dimensione, sulla terra? Ok, dai, ti do altri 30 secondi anche a te, caro Antonio, manda un messaggio a Rosa, quello che vuoi dirgli, hai questi 30-40 secondi e poi ci salutiamo purtroppo. Grazie Antonio Ok, grazie Antonio, scusa ma devo accorciare i tempi, grazie